Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio interprovinciale organizzato dal questore di Foggia e dal questore di Bari finalizzato alla prevenzione e repressione del crimine nel cosiddetto territorio ad alto impatto compreso tra le province di Bat, Bari e Foggia agenti della polizia di Cerignola, del reparto prevenzione crimine e dell'unità cinofila della Guardia di Finanza hanno passato da setaccio il quartiere San Samuele a Cerignola zona ritenuta da tempo roccaforte di spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti. Gli uomini delle forze dell'ordine, grazie all'ausilio dei cani antidroga della Guardia di Finanza dopo aver circondato un gruppo di palazzine del quartiere bloccando le uscite secondarie dei palazzi e gli ascensori hanno perquisito cassette postali, intercapedini, cantine e vani tecnici in particolare proprio nei vani ascensore di tutti i piani sono state rinvenute 81 cipollini in cellofan contenenti circa 40 grammi di cocaina altri 83 grammi della stessa sostanza divisa in tre pezzi e 190 grammi di ascensi diviso in 15 pezzi trovati inoltre un bilancino di precisione e una centralina di automobile la droga e tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato ulteriori controlli saranno effettuati anche nelle prossime settimane al fine di assicurare un incisivo contrasto al fenomeno dei reati relativi agli stupefacenti causa di degrado in particolari quartieri della città grazie a tutti